Materiale siliconico, senza aftalati, senza piombo. Materiali sicuri per il corpo al 100%, per applicazione doppia, rotondità per un uso confortevole. La superficie dura trasmette al massimo le vibrazioni. Pulsanti di controllo facili da raggiungere, con visita e concavità per il miglior controllo. A prova di doccia, velocità singola, motore potente, massima silenziosità. Caricatore USB incluso, tecnologia a ioni di litio, batteria ricaricabile inclusa.